E peggio di così non si può iniziare dopo due minuti. Mamma mia, subito chi era a terra, gabbia pronta a entrare. Anche perché ne mancano sei di titolari al Milan, più o meno. Inizio da brividi. Esce di imbarella, credo che sia una roba molto seria, temo. Eh sì, eh sì. Siccome è uno dei giocatori forse più importanti in questo momento, in difesa oltre a Tomori, perderle sarà veramente un grande, grande, grande problema. La mette. La mette. Ibra! Goal! 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 Ibra! 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 Ibra Ibovic! E' un gol! Filippo, te lo sentivi? E lui dice. Genoa 0-1 Milan. A me è Sirius, ma è un portiere in decadente. Ibra! Che occasione per il Milan, tizi! Cross dalla sinistra, Ibra, sull'altro palo ha provato la conclusione d'esterno, però non ha inquadrato la porta, era una buona posizione. Ibra! Ibra! Sotto misura! Cross di Messias a centro aria, Ibra, si appunto e staccolato, prova la conclusione alta sopra la traversa, altra opportunità per il Milan. Che assist che gli ha messo Messias? Guarda, guarda il grifone. Tizi, il grifone. Mi sembra più una gallina quello lì di un grifone, però ci stai, poi assomiglia. Sei, uso un'espressione che è propria di corno, che fra l'altro ritornerà presto con corno. Grande corno. Sei un pirla sei. Gliel'hanno già detto. Sei un pirla sei. Pericolo Tonani, paglia l'appoggio, poi sventaglia Calulu, lontano, per Ibra, Ibra che conquista palla, Ibra, dai, Dias, 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 in aria, oh, numero di Dias, che fa un dribbling e prova il tiro di destro in corsa. Che giocata, che bella. Che giocata Ebrahim Dias. Calulu, 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 Dias, Dias, Ibra, no, Krunic, tiro, colpo di Dio, gol, Messias, 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 ancora di testa, è arrivato il Messia del Milan, Messias, gol di testa, gol di testa di Messias, 2 a 0, è arrivato il Messia, è arrivato il Messia del Milan. Milan, il salvatore della patria calcistica rossonera. Ed è gol, ed è gol, ed è gol, ed è gol. 2 a 0, Messia. Ancora di testa, questa è veramente clamorosa, ragazzi. Genoa 0, Milan 2. Un giocatore che di testa credo abbia segnato, boh, forse al campetto con gli amici. 2 gol, 3 a 0, 2 gol di testa. Rovesciata di Tomori, che allontana, occasione di gol per i Genova. Ragazzi, questa è una parata straordinaria. Grande parata di Megnà, po' sulla palla che rimbalzava sulla linea, rovesciata di Tomori. Mamma mia, una parata assurda di Megnò. Teo Hernandez dalla sinistra, si incunia in aria, mette al centro. Dias, Dias. Arriva. Messias, gol, gol, messias, un raso a terra in diagonale, ed è gol, messias, doppietta di messias. Signori, abbiamo scoperto una stella, è nata una stella, è nata una stella. Mi piacerebbe rivedere tutta la gente che faceva l'ironia. Messias, messias, doppietta. Milan 3 Genova 0. E allora? E allora? Dicevo che mi piacerebbe vedere moltissimo tutte le persone che facevano dell'ironia quando hanno preso dal cortone sto ragazzo che a 30 anni, oggi è arrivato in Serie A 27, è un ex fattorino, ne hanno fatto di ironia in tutti i modi. Direi che il 3 a 0 racconta bene la partita, ti rimporta, possiamo rivederli, ti rimporta a favore del Milan, così come tiri fuori, possesso palla. Insomma è stato un dominio dall'inizio e dalla fine, no? Direi di sì, anche se ribadisco, ci sono state due grandissime parate di Mignan. Mignan fa parte comunque del Milan, del reparto arretrato rosso-nero. Quindi qualche pericolo l'abbiamo corso comunque. In ogni caso abbiamo dominato, abbiamo giocato una grande partita.